un po' di problemi, si rimette ma è lontano, via la macchina in velocità la spinge la macchina, new hop, facile, lungo i birilli, parte alla grande e a largo e Matteo si presenta subito sui primi e così i cavalli che affrontano la piegata si va al lancio, il lancio nell'ordine del 14 e qua e così Napo Rob che è partito alla grande subito a chiedere strada e il buon Ciccio De Cristofero con il cargato Rob al comando viene via Ollierbred e Ollierbred si presenta su Napo Rob, 400 se ne vanno in 31 e davanti alle tribune si forma una seconda fila con Napo Rob, Ollierbred, nelle prime posizioni anche Matteo, lungo i birilli il 5 di New Hop, poi il 2 di Noel Struck 44 e 600, sfonda Ollierbred e il cargato Bred, ora a fare andatura Cavalli al completamento del Mezzumiglio, gettonati in 59.4 per lo Yankee Slide di Giuseppe Pietro Maisto penultimo rettilineo, rimane naso al vento, quindi Matteo si va e anche Noel Struck che ha preso la via del largo chilometro, chiuso in 14, tondo, 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 ma molto tondo, 500 giù di reala la meta, Matteo fa sul serio e si trascina come un'ombra il buon Noel Struck, curva finale, Ollierbred in vantaggio, 15 di fronte 29.4, ora fa sul serio Matteo appariglia Ollierbred, dalla finestra manini dolci con Noel Struck, avalia al completamento della curva finale retta d'arrivo, sta passando Matteo, passa Matteo, a largo si profila Noel Struck, Matteo in vantaggio ci prova e ci crede i manini dolci, ma di dentro si infila, ma il palo è vicino, lotta serrato e sul palo Noel, 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 Struck, secondo il numero 5 di New Hop e terzo il numero 12 di Matteo 1.59, rompe il digiuno, rompe il digiuno, finalmente manini dolci, era un periodo no, anche questa mattina si era confessato con il sottoscritto, era un periodo no, ma questa sera, questa serata speciale, tanto per cambiare al garigliano lui si rifà il palato, con questa guidata, con New Hop, l'avevamo detto in fase di presentazione l'abbiamo intervistato, ci credeva molto, diceva che forse era la chance migliore signori, chapeau, così è stato, Noel Struck, 5.80 al totalizzatore ma da seguire per la prossima questo New Hop che ha corso molto bene è lo stesso Matteo, Noel, 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 Struck, manini dolci, in pole position linea da regia